Allora partiamo perché non ha voluto partire lui quest'anno, è partito male, si è incespicato due o tre volte quindi parto io quest'anno e vi parlo del percorso. Innanzitutto faccio i complimenti a Roberto, opportunato, all'organizzazione per quanto stanno allestendo perché già l'anno scorso con la prima edizione ci hanno fatto vedere tante novità su organizzazioni di gare ciclistiche, di ciclocross in particolare in questo caso. Siamo qui a Calvari, seconda edizione di questo Gran Premio Internazionale, percorso rinnovato, come dicevo Roberto ci ha lavorato su, è mesi che ci lavora, lui e tutto il suo staff, percorso è diventato molto più tecnico rispetto all'anno scorso, ci sono più spazi. Noi lo abbiamo appena provato con le ragazze della Nazionale in quanto siamo impegnati in uno stage qui di due giorni, in ritiro qui a San Salvatore, quindi direi percorso tecnico interessante e la gara poi la sappiamo che la fanno sempre i corridori e gli atleti. Però mi aspetto molto, soprattutto per le categorie UCI che sono quelle che noi asceguiamo di più, anche perché da qui in avanti, c'è stata una pausa dopo l'Europeo, da qui in avanti cominceremo a tirare le fila per poi scegliere la Nazionale che ci rappresenterà alla Coppa del Mondo, alle tre prove di Coppa del Mondo, una in Belgio, una in Spagna e una in Francia e poi al Mondiale del mese di febbraio a Dogeraide dove noi andremo a difendere il titolo conquistato nel Team Relay l'anno scorso o negli Stati Uniti e la medaglia di bronzo di Silvia Persico. Io su questi ragazzi ho molte aspettative, stiamo lavorando molto bene, si impegnano e questa è la cosa più importante, quindi un grazie a chi organizza le corse, un grazie alle società che comunque investono su questi ragazzi e su questa specialità e un grazie ai vertici federali che ci danno l'opportunità a me, a Mirko, visto che anche tante volte collaboriamo sia nel gravel, nella mountain bike che anche nel ciclocross per le specialità del fuoristrada che ci riguarda. Adesso passo la parola a lui. Ciao a tutti, è sempre interessante, molto produttivo a lavorare al fianco dei DCT, dei vari settori, sapete che mi occupo di mountain bike, insieme abbiamo portato a casa una ottima medaglia di bronzo al Mondiale Gravel con la Chiara Teocchi e una d'argento con ossa, abbiamo fatto veramente grandi cose, come dicevo è interessante, serve anche per la nostra esperienza, per il nostro futuro e si capisce come ognuno di noi riesce a trasmettere la propria esperienza ai ragazzi e quindi per questo che sto dicendo è molto importante collaborare tra di noi. Ci troviamo in Liguria, quindi sono vicino a casa, mi ha fatto piacere il coinvolgimento di Daniele e la stagione, come sapete, per noi nella mountain bike è andata veramente bene, sia nel cross country che nel marathon, abbiamo portato a casa due medaglie d'oro ai campionati europei una con Simona Vondetto e l'altra nel marathon con Fabian Rabesteiner, Claudia Peretti sempre nel marathon, un bronzo, medaglia d'argento alla staffetta, comunque sono veramente soddisfatto insieme abbiamo partecipato anche ai campionati europei cross country con i ragazzi giovani, con gli esordienti e gli allievi, abbiamo fatto una grandissima esperienza sia noi che i ragazzi e quindi al mondiale abbiamo visto ancora cosa siamo riusciti a portare nel bottino della nostra nazionale che abbiamo vinto tantissime medaglie quest'anno in monta, in pista, strada, ciclocross, è entrato in stagione Daniele e quindi posso fare solo in un bocca al lupo e un augurio per tutta la stagione perché sarà lungo e molto impegnativo, vedo che ogni anno è sempre più impegnativa anche la stagione del ciclocross, quindi forza Daniele, mi raccomando è veramente in gamba, quando insieme ai ragazzi torna bambino e riesce veramente come ho detto all'inizio a trasmettere la sua passione, la sua esperienza e vedo che i ragazzi lo ascoltano parecchio, quindi bravo Grazie, detto da te, cinque Stiamo arrufianando tutti e due qua Stiamo arrufianando tutti e due qua Stiamo arrufianando tutti e due qua